Allora oggi è l'ottavo incontro, l'ottavo giorno che ci incontriamo per il Marangok. E vorrei salutare tutti i monaci, le monache, il sangha, tutti i rifugiati, tutti i miei amici di Dharma, in tutto il mondo, in particolare i tibetani. Vorrei salutare tutti voi e offrirvi i miei saluti di buon auspicio. Allora, l'ultima volta abbiamo parlato in breve del paranirvana dell'anziano Mahakashapa. Quindi oggi vorrei parlare in termini generali del paranirvana invece dell'anziano Ananda. Faccio notare la parola anziano in italiano e la stessa parola di stavira in sanscrito. Quindi parleremo adesso appunto della storia di Ananda e del suo paranirvana. Diciamo che ci sono tre parti principali, la cui prima parte è laddove Ananda passa le vesti e la ciotola a Shanabhasin. La seconda è invece una recitazione errata di un verso e il terzo è il paranirvana vero e proprio di Ananda. Quindi questi sono i punti principali che andremo a vedere assieme oggi. Quindi il primo di questi tre è appunto la storia in cui Ananda passa quelle che sono le vesti monacali e la ciotola delle lemosine a Shanabhasin. E gli trasmette l'insegnamento. Quindi quando parliamo degli anziani dell'insegnamento appunto di stavira in sanscrito per un certo periodo dopo che Buddha Shakyamuni passò nel paranirvana vi era la tradizione di passare gli insegnamenti da una persona con l'altra. Quindi Buddha Shakyamuni li passò a Mahakashapa, Mahakashapa quindi li trasferì, li passò invece ad Ananda e ora Ananda invece li passa a Shanabhasin. Chi è Shanabhasin? In parte ve l'ho spiegato la volta scorsa. Allora Shanabhasin era il figlio di un mercante. E proprio perché era il figlio di un mercante quando crebbe ecco che viaggiava per i mari come un mercante appunto. All'epoca molti mercanti viaggiavano per mare così da poter andare a raccogliere diversi beni preziosi e rari attraversavano l'oceano. E quindi un giorno Shanabhasin era tornato da uno di questi suoi viaggi in mare. Quindi decise di seppellire, nascondere i suoi tesori, quelli che aveva appunto trovato attraverso i suoi viaggi e andò al boschetto di bambù. Quando parliamo del boschetto di bambù parliamo del monastero Venuvana. È un monastero in un boschetto di bambù vicino a Rasgira, Rasgria scusate, che è stato di fatto il primo luogo che venne appunto creato per ospitare il Sangha. E chi offrì questo monastero, il monastero di Venuvana, oppure anche noto come boschetto di bambù, ecco fu il re Binbissara. Ed era appunto un luogo vicino a Rasgria. Quindi così fu che Shanabhasin, tornando dai suoi viaggi in mare, andò appunto al Venuvana, al monastero di Venuvana. E arrivando a questo monastero, arrivò e incontrò Ananda, che stava camminando avanti e indietro, davanti al tempo principale. In genere, di solito, il Sangha esce dal monastero. E quindi in questo caso, quando diciamo che camminava avanti e indietro, davanti al tempo, probabilmente significa che Ananda stava andando avanti e indietro senza nessun obiettivo specifico. In ogni caso, questo modo di camminare avanti e indietro senza obiettivi specifici, più avanti divenne una meditazione camminata, che spesso è legata appunto a questo camminare avanti e indietro, senza un obiettivo specifico. In ogni caso, proprio perché Ananda era... dopo aver camminato avanti e indietro, davanti al tempio, stava uscendo dal monastero per uscire. e Shanna Vasin lo vide e si prostrò a lui, dicendo «Oh, venerabile, ti prego, ascoltami. Io, grazie ai benedizioni di tre gioielli, sono riuscito ad attraversare il grande oceano e a tornare sano e salvo. E quindi, per queste ragioni, voglio sponsorizzare un'assemblea di Dharma all'anno per cinque anni». «Che cosa significa esattamente? Che cosa intendi?» gli chiede Ananda. Lui disse «Allora, ogni anno, per cinque anni, vorrei offrire, appunto, fare un'offerta importante al Sangha di modo che vi sia un'assemblea di Dharma all'anno, quella che è nota con Panjavarshika». e poi chiese «E dov'è il Bhagavan?» E tutto ciò perché lo fece, appunto, Shanna Vasin? Proprio perché si sentiva, diciamo, in debito nei confronti dei tre gioielli, poiché era riuscito a portare avanti il suo viaggio attraverso gli oceani e tornare senza problemi maggiori. E quindi disse «Vorrei poter offrire questo festival per cinque anni», cioè cinque volte, una volta all'anno. E quindi, dopo ciò, appunto, chiese Shanna Vasin «E dov'è il Bhagavan?» E allora Ananda gli disse «Guarda, il Bhagavan è entrato nel Paranirvana». Immediatamente, appena sentì queste parole, Shanna Vasin svenne e cadde a terra. Dopo che lo rianimarono e lui riprese i sensi, continuò quindi con le domande e chiese «E dov'è il venerabile Shariputra?» E di nuovo gli risposero «Anché egli è entrato nel Paranirvana, esattamente come anche Mughalaya Yana e Mahakashapa». Quindi, a udire tutto ciò, ecco che Shanna Vasin era veramente addolorato, era molto triste. E quindi, poiché lui, prima di aver fatto questo viaggio nell'oceano, l'ultimo suo viaggio attraverso gli oceani, tutti questi maestri appena menzionati erano ancora vivi. e quando tornò, invece, trovò che tutti loro erano passati al Paranirvana e quindi era veramente angosciato, addolorato, rattristato da questa notizia. In ogni caso, lui aveva appena promesso di poter fare questa sorta di festival quinquennale, quindi di fatto era come organizzare questa riunione di Dharma con tutti i monaci e provvedere per tutto ciò che occorreva. e lui, con grande fede, proseguì quindi con la sua promessa. E quando questo festival quinquennale fu completato, ecco che Ananda gli disse «Tu hai servito materialmente gli insegnamenti del Bhagavan, ora devi servire il Dharma». E Shanna Vasin dice «Ma cosa devo fare per fare ciò?» Allora Ananda gli rispose «Cosa devo fare?» «Devi portare avanti gli insegnamenti del Bhagavan e devi prendere l'ordinazione». Immediatamente, quindi Shanna Vasin disse «Lo farò». E quindi Shanna Vasin era stato predetto da Mahakashapa, vi ricordate, l'abbiamo visto l'altro giorno, Mahakashapa, prima di passare al Paranirvana, aveva preannunciato dell'esistenza, della nascita di Shanna Vasin. e così Ananda lo ordinò e gli diede appunto l'ordinazione completa e lo rese un bhikshu. E quindi lui, Shanna Vasin, rispose dopo l'ordinazione, facendo questa promessa, dicendo «Da oggi in poi io vestirò fino alla fine di questa vita questi abiti di canapa». lui, Shanna Vasin, era una... ecco, quindi, vedete, disse che avrebbe indossato solo gli abiti di canapa, non gli abiti monacali più fini e leggeri, ma solo quelli di canapa, che è un po' una promessa che fece nel voler mantenere la qualità, diciamo, anche dell'insegnamento e così via. E quindi, Shanna Vasin, peraltro, era una persona anche molto intelligente, di intelligenza molto acuta, e imparava molto velocemente anche solo ascoltare. Quindi riuscì a memorizzare tutti gli 84.000 insegnamenti che Ananda gli trasmise, perché Ananda li aveva ricevuti direttamente dal Buddha e li trasmise. Shanna Vasin li memorizzò tutti e li memorizzò quindi perfettamente. Arrivò quindi a ottenere le tre consapevolezze e a conoscere bene tutti e tre i canestri. quindi in breve la persona a cui gli insegnamenti vennero diciamo trasferiti, trasmessi, fu appunto Shanna Vasin. Il secondo punto in merito al Paranirvana di Ananda abbiamo detto che era era la recitazione errata che venne fatta appunto da Kungabu Chajjit Parcorsi. La recitazione errata del sutra intitolato la gru bianca, la gru nel senso dell'ironi, la gru in quel senso. E cosa significa tutto ciò? Allora, le circostanze che portarono Ananda a decidere di andare nel Paranirvana fu proprio questo, fu il fatto di avere malinterpretato, frainteso, questo testo. Questo viene spiegato anche nei testi del Mula Sabastavada, quindi i punti fini della disciplina e anche in altri testi. Allora, che cosa viene spiegato? Accade che un giorno vi era Ananda che si trovava appunto al boschetto di bambù, quello che vi ho spiegato prima, e quindi al Venuvana, no? Al monastero di Venuvana. E Ananda ha sentito che alcuni bhikkhu, alcuni monaci stavano recitando una strofa e vedete una volta come succedeva. Succedeva che il maestro insegnava un testo e i monaci, i suoi allievi dovevano ripetere e ripetere lo stesso verso, la stessa strofa così da memorizzarla. Quindi era questa l'occasione. C'erano i monaci che stavano recitando, ossia memorizzando queste strofe. e sentì questa recitazione che diceva invece di vivere cent'anni senza mai vedere una gru bianca, vedete di fatto cosa intendiamo con gru bianca? Di fatto è un uccello d'acqua, un uccello che vive intorno all'acqua bianco. Quindi, in breve, cosa significava questa strofa? Se una persona anche dovesse vivere o almeno addirittura cent'anni, ma non dovesse mai vedere una gru bianca o un cigno? Ecco che, di che cosa è segno il fatto di vedere una gru bianca? Allora, la fine della strofa dice sarebbe meglio vivere un sol giorno per vedere invece questa gru bianca. Sarebbe meglio. Vedete, è un po' strano questo testo, questa strofa. Allora, che cosa cambia? Il vedere o no la gru bianca, questo uccello d'acqua bianco? Allora, nel parlare di quanto ciò sia importante, vedete che Ananda, quando sentì il monaco che recitava in questi termini, andò da lui e gli disse oh figlio, guarda che il Bhagavan non ha detto questo, quello che il Bhagavan disse era diverso, erano parole diverse. Questo è quello che disse il Bhagavan e recitò questa seguente strofa dicendo invece che vivere cent'anni senza essere mai liberati da nascita o morte, vivere un solo giorno ed essere liberati da nascita e morte è molto meglio. Quindi vedete il Buddha diceva questo che si arriva a vivere per cent'anni ma non si riesce a liberarsi dal ciclo di morte e rinascite allora è meglio vivere un solo giorno e riuscire invece sia a liberarsi dal ciclo di nascita e morte. E questo perché viene detto in questi termini probabilmente perché nei dialetti dell'epoca una volta probabilmente c'era una parola simile tra ciclo di nascita e morte e invece la parola per gru bianca per questo che il sutra precedente cioè la strofa precedente era stata recitata in maniera errata e quindi Ananda stava spiegando dicendo guarda che non si parla di una gru bianca ma si parla del ciclo di nascita e morte è questa la parola che andrebbe messa in questa strofa quindi così parlava il Buddha però mentre parlava in questi termini ecco che Ananda stesso pensò anche vi sono solo due persone che criticano gli insegnamenti uno quelli che sono arrabbiati e non hanno fede per cui quindi persone principalmente arrabbiate persone iraconde questo è un tipo di persone e l'altro tipo di persone sono invece le persone che si hanno fede ma comprendono male l'insegnamento quindi comprendono in modo errato ciò che è stato insegnato benché abbiano fede mentre i primi erano gli racconti e che quindi perdono la fede questi due erano i grossi gruppi che Ananda disse a se stesso e quindi disse anche non a se stesso scusate lo disse ai monaci dicendo se voi memorizzate i sutra in modo errato vi distruggete esattamente come un elefante che finisce nelle sabbie mobili e quindi di fatto anziché arrivare a trarne beneficio distruggerete voi stessi e questo perché proprio perché se non avete l'intelligenza di comprendere gli insegnamenti allora non c'è non ha senso se invece voi li comprendete in maniera errata ecco che l'insegnamento diventa addirittura come mangiare un veleno quindi non è solo non di beneficio ma addirittura è di danno e quindi invece coloro che sono i saggi si comportano in maniera corretta e praticano e pian piano arrivano ad eliminare le afflizioni i dubbi fino ad arrivare alla liberazione quindi prima bisogna ascoltare bene i sutra e poi andare a metterli in pratica fino a arrivare ad eliminare le afflizioni e così arrivare alla liberazione ecco questi furono i consigli che Ananda diede a quei discepoli a quei bikshu che stavano recitando in maniera errata questi bikshu andarono allora dal loro abate che era colui che gli aveva appunto trasmesso la strofa errata diciamo e questo suo maestro l'abate gli disse ah ma no non devi ascoltare Ananda ormai anche lui è anziano ormai è invecchiato non è più in grado di ricordare bene le cose la sua memoria sta un po' perdendo non è più affidabile parla vanvera quindi tu continua pure a recitare esattamente come io ti ho insegnato e come facevi prima non prestare attenzione ad Ananda questo fu ciò che l'abate disse a questi bikshu che andarono a chiedere chiarimenti allora a questo punto allora a questo punto quindi di fatto vedete l'abate non disse io ho sbagliato in effetti è corretto la versione di Ananda e a causa del proprio imbarazzo in tal senso e per mantenere i propri discepoli non ammise di aver sbagliato a trasmettere la strofa e diede la responsabilità ad Ananda dicendo che era anziano che era vecchio e che non riusciva più a ricordare le cose e quindi questo abate consigliò ai suoi studenti di rimanere a recitare esattamente come avevano fatto prima quindi dopo questo evento cosa accadde accadde che dato che appunto Ananda aveva dato questi consigli andò a verificare se i Bikshu stavano cambiando o meno la strofa seguendo quello che era stato il suo consiglio quindi sostituendo la parola della gru con invece il ciclo di rinascita e morte ma si accorse che non avevano cambiato la strofa e rimase ci rimase male e tornò da questo monaco e gli disse ma figliolo io non ti ho già spiegato che il Buddha il Bhagavan non ha detto così perché pronti continui a recitare in questo stesso modo allora il Bikshu gli riferì le parole del suo abate e a questo punto del suo abate che gli aveva detto appunto di non affidarsi più ad Ananda poiché era vecchio e si dimenticava tutto quando allora Ananda ascoltò questo pensò e disse ora io non so proprio che cosa dire a questo punto e si pose a pensare a riflettere e disse a se stesso se io dovessi andare a parlare con l'abate oppure con i Bikku in generale vedo che ormai non mi ascoltano anzi addirittura si creerà una disputa non c'è proprio altro modo inoltre vedi anche grandi esseri del passato come Shariputra Mughalajana Mahakashapa sono tutti entrati nel paranirvana e anche loro non possono aiutarmi diciamo a sostenere questa mia tesi quindi a questo punto grazie al potere della virtù della compassione dei Tathagata il vero Dharma rimarrà comunque mille anni ora è giunto il momento in cui anch'io passi nel paranirvana quindi in breve quello che disse fu questo i vecchi sono tutti morti i nuovi non sono d'accordo con loro e quindi rimarrò in solitudine nel diana della concentrazione come un uccello nato da un uovo quindi Ananda era molto triste poiché vedeva che i nuovi studenti non legavano con lui e non riusciva ad avere questa relazione e quindi diceva allora devo fare come un uccello che è nato da un uovo ossia esce da solo e fa tutto da solo un uccellino che nasce da un uovo e quindi disse in questi termini a se stesso tanti e comunque in tanti altri versi si legge della tristezza che gli provò davanti a questo evento e quindi alla fine decise di passare al Paranirvana e quindi la persona a cui lui aveva invece affidato gli insegnamenti era Shara scusate Shannavasin e gli aveva detto guarda il Buddha ha passato gli insegnamenti a Mahakashapa che li ha passati a me e io ora li passo a te e adesso io entrerò nel Paranirvana quindi li dovrai sempre proteggere proteggeli bene e sappi che in futuro nella città di Matura dove c'è un monte che si chiama Murunda ecco in questa montagna su questa montagna c'è un mercante si chiama Matura che ha due figli Nata e Pata nel testo tibetano dice Nata e Pata invece nelle 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 sorgenti diciamo nei testi cinesi si parla di un solo figlio non Nata e Pata solo uno in ogni caso così disse Ananda questi figli o figlio che sia costruiranno un tempio e saranno i patroni del tempio in qualche modo e in questa terra di Matura vedrai che oltre a loro ci sarà un venditore di incensi nominato Gupta lui si chiama Gupta e il figlio di Gupta si chiama Upagupta quindi in futuro disse Ananda a Shanavasin tu dovrai far sì che Upagupta diventi un monaco ordinalo e così come il Bhagavan aveva predetto e aveva detto questo aveva detto che dopo cent'anni dal mio Paranirvana ci sarà un Buddha senza alcun segno quel Buddha sarà proprio Upagupta e lui sarà in grado di compiere tutte le attività di un Buddha devi quindi trovarlo e dargli l'ordinazione e così Ananda di fatto trasmise e lasciò nelle mani di Shanavasin l'insegnamento indicando anche a chi può trasmetterlo ulteriormente e Shanavasin a questo punto disse assolutamente sì Abate farò come dici questo ci ha mostrato quindi le circostanze nelle quali Ananda ecco che passò al Paranirvana e come tutto ciò accadde a questo punto vediamo il terzo punto che è il trapasso vero e proprio di Ananda al Paranirvana allora nel Mula Sarvastavada che sono i punti sottili della disciplina viene descritto in questo modo il passaggio al Paranirvana di Ananda in questo modo dice che una volta che Ananda aveva passato gli insegnamenti a Shanavasin ecco che Ananda pensò dovessi io passare al Paranirvana entrare nel Paranirvana a Vaishali che Vaishali è una delle città di Vrigi che era questo regno ecco che il re Ajashatru che invece non era di quel terreno di quel paese ecco che bensì era del Magadano ecco quindi dice a questo punto il re Ajashatru e lo stato del Magada entrerà in conflitto con invece il regno di Vrigi dove appunto c'era la città di Vaishali e peraltro dovessi io passare al Nirvana entrare nel Nirvana a Vaishali ecco che le mie spoglie le reliquie non verranno condivise con Ajashatru e il Magada e lo stesso al contrario quindi pensò quello che devo fare è di entrare al Paranirvana nel mezzo del fiume Gange quindi piuttosto che entrare al Paranirvana a Vaishali o nel regno del Magada ecco che scelse di entrare al Paranirvana nel bel mezzo del fiume Gange fu così che si incamminò verso il fiume Gange in quel momento il re Ajashatru stava dormendo e ebbe un sogno e quello che sognava era di avere un parasole sul capo e che questo parasole in quel momento si si spezzò l'asta del parasole si spezzò e quando sognò questo si svegliò spaventato e non appena si svegliò ecco che il il guardiano della porta del suo palazzo gli disse oh guarda o re che l'anziano Ananda ha mandato un messaggio dicendo che entrerà nel Paranirvana non appena udì queste parole ecco che il re Ajashatru svenne allora lo cosparsero d'acqua e lo risvegliarono lo rianimarono così si risvegliò recuperò i sensi e immediatamente disse e dove sta andando per passare al Paranirvana per entrare nel Paranirvana ha dato indicazioni e a questo punto Shanna Vasin gli rispose dicendo andrà guarda è andato verso la città di Vaishali sta andando verso Vaishali nella direzione di Vaishali così gli disse è partito verso la città non gli disse passerà il Paranirvana là ma si è incamminato verso Vaishali a questo punto ecco che il re Ajashatru con tutto il suo esercito al completo le quattro divisioni dell'esercito indossarono l'armatura e si recarono alle rive del Gange nello stesso momento anche i re scusate no i 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 le divinità di Vaishali che vivevano lì dissero alla gente di Vaishali stessa dicendo guardate che lo Stavira Ananda sta venendo proprio qui a Vaishali perché lui che è la lampada del mondo che agisce con compassione per i numerevoli esseri eccetera ha deciso di entrare nel Paranirvana e si sta incamminando verso Vaishali ecco che a questo punto allora anche l'esercito dei licciavi di Vaishali allo stesso punto indossò le armature e anch'esso composto di quattro divisioni ecco che arrivò dall'altro lato del fiume Gange e quindi di fatto abbiamo questa immagine da un lato del Gange c'è l'esercito dei licciavi di Vaishali e dall'altro lato vi erano invece l'esercito di Ajashatru del Magada da Rajgir e quindi ecco che a questo punto ciò che accade è che il re Ajashatru si chinò e prostrò ad Ananda probabilmente prese una barca attraverso il fiume per prostarsi a lui in ogni caso si prostrò a lui dicendo oh grande Bhagavan tu sei il saggio che deve essere che hai portato il bene e così via ti prego lascia qui i tuoi resti per il nostro bene e lo stesso fu ciò che fecero anche i licciavi che stavano sull'altra sponda lo pregarono di lasciare il corpo presso di loro a questo punto Ananda iniziò a pensare in questi termini dicendo se lascio il corpo nella città di Magda i licciavi rimarranno addolorati non nella città nello stato diciamo nella terra perché era l'altro lato del fiume era ancora terra di Magda dello stato di Magda i licciavi rimarranno addolorati ma se lo lascio nell'altro stato verso la città di Vaishali ecco che Ajashatru il re di Magda altrettanto rimarrà turbato e quindi e quindi disse a se stesso io so che entrambi sono adeguati per ricevere i resti del mio corpo e quindi quando e quindi decise di passare al Paranirvana in mezzo al fiume e quindi quando Ananda era lì lì per passare e entrare al Paranirvana ecco che arrivò ecco arrivò con un saggio attraverso dei poteri miracolosi apparve ad Ananda questo saggio con 500 suoi discepoli giunse i palmi delle mani e disse oh anziano Ananda ti prego ordinaci rendici monaci e a questo punto Ananda accettò e quindi c'erano questi 500 studenti che volevano diventare monaci che erano raccolti intorno attorno alla riva del fiume e quindi anche i 500 discepoli benché loro non avessero poteri miracolosi ma grazie al potere di Ananda appena Ananda pensò che i discepoli vengano a me e Ananda in quel momento come abbiamo detto prima si trovava al centro del fiume ecco che al tempo stesso Ananda costruì mentalmente una isola al centro del fiume e non appena egli pensò che gli studenti vengano a me grazie al potere miracoloso di Ananda ecco che i 500 discepoli entrarono e arrivarono sull'isola senza i loro stessi poteri miracolosi ma grazie ai poteri miracolosi di Ananda e immediatamente ecco che Ananda potè ordinarli come monaci e di solito per l'ordinazione bisogna recitare tre volte la strofa per l'ordinazione dopo la terza volta che recitarono questo verso dell'ordinazione ecco che tutti e 500 i discepoli arrivarono allo stato di Arhat scusate ossia di struttore del nemico e dato che loro arrivarono ad essere degli Arhat quindi dei struttori del nemico e questo accadde mentre si ritrovavano nel bel mezzo dell'acqua su questa isola nel mezzo delle acque ed era esattamente mezzogiorno alcuni di loro vengono chiamati in mezz'acqua e altri in mezzogiorno in ogni caso dopo che ottennero i voti ecco che si prostrarono ad Ananda e gli dissero vedi il Bhagavan ha reso monaco Subhadra vi ricordate Subhadra è stato l'ultimo ad essere stato ordinato dal Bhagavan stesso e così come lui anche noi ecco e così come lui ossia Subhadra non appena riuscì a entrare a diventare monaco entrò per primo nel Paranirvana prima del Buddha stesso quindi loro dissero esattamente come Subhadra fece in questi termini anche noi non ce la sentiamo di guardare a te che passi che entri al Paranirvana prima che tu entri al Paranirvana noi stessi vogliamo entrare nel Paranirvana perché non potremmo reggere al dolore di vederti lasciare il corpo in breve dissero vogliamo morire prima di te e quindi Ananda disse loro vedete Bhagavan affidò gli insegnamenti a Makashapa prima di entrare al Paranirvana mentre Makashapa poi gli affidò a me quindi io ora vado verso il Paranirvana quindi voi anziché entrare al Paranirvana dovete per favore continuare a proteggere gli insegnamenti dato che il Buddha aveva già predetto aveva fatto la profezia dicendo che il Kashmir era un luogo adeguato adeguato c'erano le condizioni adeguate quali ad esempio dei buoni posti in cui rimanere per concentrarsi e così via quindi io ho bisogno che voi andiate là il Kashmir è un luogo perfetto affinché la gente possa praticare la meditazione quindi inoltre sappiate che il Bhagavan ha anche predetto che cento anni dopo il mio passaggio il Paranirvana ci sarà un Bikshu che si chiama Madianti che proprio in Kashmir diffonderà gli insegnamenti per cui voi o figli miei dovete andare là e diffondere l'insegnamento là e quindi qua non è chiaro se questo discorso venne fatto a tutti e cinquecento i discepoli o almeno a uno dei cinquecento che appunto come vi dicevo prima veniva chiamato il mezzogiorno il discepolo del mezzogiorno in ogni caso o i discepoli del mezzogiorno quindi mentre prima gli avevano detto noi non saremo in grado di vedere di vederti entrare al Paranirvana soffriremo troppo poi Ananda rispose loro dicendo no non fate così piuttosto andate invece in Kashmir poiché vi è questa profezia del Buddha e vi è bisogno che l'insegnamento venga diffuso in questa regione e quindi ecco questo vedete gli insegnamenti probabilmente questi in questo mandare gli studenti nel Kashmir è legato alla profezia che era stata fatta dal Buddha e ora prendiamo mezz'ora di pausa ebbene allora dopo che quindi Ananda fece la profezia e parlò appunto con questi monaci chiamati i mezzogiorno o mezzofiume ecco che benedisse il proprio corpo fece e mostrò vari miracoli e come e a questo punto il suo corpo prese fuoco completamente e passò in questo modo al Paranirvana e quindi le persone di Vaishali ricevete metà del corpo e le persone invece del Magada quindi Re Ajashatru ricevete l'altra metà dei resti diciamo del corpo di fatto come già vi ho detto l'altro giorno è il figlio di Ajashatru che spostò la capitale di Ajashatru la capitale del Magada a Pataliputra questo è quello che vi ho detto la volta scorsa ma in realtà sui testi sta scritto che Ajashatru costruì lo stupa con i resti e le reliquie di Ananda proprio a Pataliputra benché la capitale fosse ancora Rajgriya in ogni caso così stanno le cose e allo stesso modo anche i liciavi costruirono uno stupa con i resti di Ananda a Vaishali andando adeggere invece nei testi della trasmissione meridionale ecco che rispetto al Paranirvana di Ananda ecco che vedete c'è un commentario al Dharmapada al Dharmapada dove vi è un racconto appunto è una descrizione del Paranirvana di Ananda proprio in questo commentario e come la storia del appunto del Paranirvana inizia con una citazione una citazione dalla delle Giataka delle storie Giataka della vita e ci sono ben 547 storie la numero 166 è quella che si chiama Upasala Giataka ecco sono le storie Giataka della tradizione Pali quindi in breve è la storia Giataka di Upasala e dovessimo tradurlo in tibetano diremo che sono le storie della vita quindi la quota la citazione dice così tra coloro che muoiono e lasciano i loro resti su questa terra non c'è nessuno che muoia in un luogo dove nessuno mai morta prima a parte l'anziano Ananda ecco e quindi in breve tra i 14.000 case qui intorno che sono state bruciate non c'è alcuna in cui non vi sia stata morte o nascita quindi in breve sta a significare che non esistono luoghi in cui le persone non siano morte o nate e quindi in breve quello che si spiega è che di fatto sulla terra non esistono luoghi dove già non sia morto qualcuno prima escluso quello che fu il caso invece appunto del Paranirvana di Ananda poiché egli entrò nel Paranirvana in un luogo dove nessuno era mai morto quello che viene raccontato nella tradizione Napali è che quando l'anziano Ananda raggiunse i suoi 120 anni raggiunse 120 anni di età ecco che iniziò a guardare un po' ad analizzare quindi la durata della propria vita e anche di fatto anche nella tradizione tibetana c'è un racconto simile noi in tibet abbiamo questo tipo di racconto laddove si va a chiedere a un grande lama dicendo dammi una predizione quanto sarà la lunghezza la durata della mia vita e così fece Ananda guardò quindi ed esaminò quella che era la durata della sua vita e si rese conto che era vicino al Paranirvana ormai e così disse e annunciò di fatto a tutti guardate tra sette giorni entrerò nel Paranirvana lo disse in maniera pubblica e lo disse a tutti insomma e quando lo disse in questi termini si parla di questo fiume che si chiama il fiume Rohini ecco che le persone che abitavano in entrambi le sponde del fiume Rohini sentirono quest'annuncio appunto che Ananda avrebbe lasciato il corpo sette giorni dopo e quindi vi sono le persone che erano dal lato vicino e lato lontano vengono chiamati così i due lati del fiume e quindi le persone sul lato vicino del fiume dicevano abbiamo venerato molto Ananda quindi passerà il Nirvana entrerà il Nirvana nel nostro lato e invece quelli del lato opposto quindi il lato lontano del fiume sostenevano invece l'opposto dicendo no 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 di certo l'anziano Ananda entrerà nel Paranirvana qui dove abitiamo noi nel nostro lato del fiume cioè sulle terre al nostro lato del fiume quindi Ananda in breve sentiva queste voci del fatto che entrambi le fazioni le due regioni ai due lati del fiume Rohina desideravano arditamente che egli lasciasse il corpo nella propria area e quindi disse a se stesso io non posso certo dire che le persone del lato vicino del fiume non mi abbiano aiutato e allo stesso modo non posso sostenere che le persone del lato lontano del fiume non mi hanno aiutato quindi dovessi io lasciare il corpo dal lato vicino del fiume quelli del lato lontano non riceveranno le reliquie allo stesso modo dovessi io invece lasciare il corpo nel lato lontano del fiume ecco che allora le persone dal lato vicino non potranno ricevere le reliquie e inoltre le due fazioni si litigherebbero e si farebbero guerra-vicenda e quindi questo non va bene e quindi devo fare in modo che tutti siano felici che tutti siano soddisfatti perché la causa di questa disputa sarà invece la mia causa sono io che ho posto le cause per questa disputa e allora disse a se stesso sia che entrambi i gruppi di persone sia quelle della sponda vicina che quelle della sponda lontana mi hanno venerato ecco devo dire la verità tutti sono stati molto gentili con me e quindi disse alle persone in questo modo dite arrivate cauno vicino all'arriva di questo fiume quindi quelli della riva vicina del fiume si devono radunare proprio di fianco al fiume dal loro lato e quelli della riva lontana di nuovo radunarsi lì vicino al proprio al fiume stesso dal proprio lato e dopo sette giorni ecco che coi poteri miracolosi lui fece alzare sette piante piante molto grandi delle palme e ci si sedette sopra e a questo diede l'insegnamento del dharma insegnò il dharma e quindi disse e li fece salire nel bel mezzo del fiume e a gambe incrociate diede l'insegnamento e poi insegnò il dharma e poi disse vedete che le mie spoglie verranno divise in due parti metà cadranno sul lato lontano e metà sul lato vicino del fiume così ognuno avrà la propria parte a quel punto si sedette di nuovo a gambe incrociate esattamente in quel luogo e entrò nella concentrazione chiamata l'assorbimento del fuoco onnipervasivo ecco il tegio datum sama pagi e di fatto ciò che accade che il suo corpo immediatamente prese fuoco i suoi resti si dividono in due parti e metà cadde sul lato vicino e metà sul lato lontano del fiume e quindi ecco che le persone ottennero sia dal lato vicino che dal lato lontano le reliquie di fatto le videro cadere e poterono ottenere e avere per loro le reliquie ma nel vedere tutto questo ecco che le persone iniziarono a lamentarsi a piangere si erano veramente rattristate nel vedere questo e si dice che addirittura i lamenti furono addirittura maggiori di quelli che si udirono ai tempi del passaggio al paranirvana del Buddha e questo non per un giorno o un mese ma queste lamentele urla e dolore andò avanti per quattro mesi e era straziante e quindi la gente era veramente triste e addolorata poiché versava lacrime e diceva se non ci sono più coloro che sono gli anziani dell'insegnamento ecco che è gravissimo poiché di fatto quando il Buddha passò al paranirvana ci lasciò con gli anziani degli insegnamenti gli stavira e invece adesso abbiamo perso anche il nostro maestro che col passaggio di Ananda questa è la storia così come viene raccontata nel Dhammapada per la tradizione per quanto non c'era la tradizione pali c'è anche Tan Chui San che nel settimo secolo arrivò in India e prese noto di tutto ed è appunto il testo delle note viene chiamato i grandi documenti Tang delle regioni occidentali è un testo molto molto noto noi lo chiamiamo in tibetano anche i testi di viaggio i diari di viaggio ecco i diari di viaggio di Tang e in ogni caso quando egli arrivò in India disse che arrivò in un posto dove arrivò nel posto in cui il corpo del Buddha venne suddiviso vorrei mostrarvelo a video venne suddiviso in due parti dove vennero poi costruite le wow le le sue spoglie e costruite i due stupa vi mostro questo ho fatto una traduzione veloce dal cinese in ogni caso quello che sta scritto in questo testo potete leggerlo da soli dice sua santità dice che circa a 30 liwar che è un'unità di misura dove diciamo in totale sono circa 17 chilometri dal tempio di Shvetapura ecco c'erano due stupa uno sul lato sud del Gange e l'altro sul lato nord del Gange ed è qua che il nobile Ananda diciamo divise le proprie spoglie in due parti questi sono quello che si legge in questo testo appunto i racconti di viaggio di Tang e di fatto vedete Ananda era un pugino diretto del Buddha era molto molto in gamba e era molto colto e aveva raggiunto anche il Dharani ossia la capacità di non dimenticare mai aveva un'ampia conoscenza di tutti i campi del sapere e dopo il Paranirvana del Buddha ecco che succede tema Akashapa nella protezione e la trasmissione degli insegnamenti nella guida degli studenti e quindi alle volte quando si sentono questi racconti vi sono delle parole dei nomi che vengono detti in maniera errata e questo può creare confusione quando il Buddha passò al Paranirvana egli a Magada mentre scusate Ananda nel Magada mentre camminava nella foresta vide un monaco novizio che recitava i sutra ma ne confondeva l'ordine le pronunciava in maniera errata e quindi Ananda si ricordò di quello che era stato invece trasmesso dal Buddha stesso e quindi gli dice guarda adesso bisogna che tu correga il tuo modo di pronunciare non va bene come stai recitando i sutra e il monaco novizio lo guardò dicendo o vecchio tu ti sbagli il mio maestro è nel fiore degli anni e mi ha insegnato questi questi sutra e non ci possono essere errori a quel punto Ananda rimase in silenzio si ritirò e andrò e pensò in questi termini dicendo a se stesso anche se sono anziano io voglio e vecchio proprio anziano nel senso di vecchio non gli anziani di insegnamento dice desidero comunque rimanere in questo mondo il più a lungo possibile per far sì che il vero dharma rimanga ma se ora gli esseri senzienti sono totalmente offuscati dalle oscurazioni e non ascoltano le istruzioni allora rimanere più a lungo è inutile a questo punto è meglio che io vada nel para nirvana che io entri nel prana nirvana quindi a questo punto fu così che Magada che Ananda scusate lasciò il Magada nella direzione di Vaishali salì su una barca andando verso Vaishali quando arrivò però nel centro del fiume ecco che Ajashatru che era il re del Magada avendo sentito che era partito dal suo regno ecco dato che gli voleva un grande bene gli era provava addirittura possiamo dire attaccamento nei confronti di Ananda si precipitò lì con un esercito enorme di centinaia e migliaia di soldati e si accampò sulla riva meridionale del fiume al tempo stesso anche il re di Vaishali che stava invece aveva sentito dire che invece Ananda stava per andare a Vaishali ecco lui con grande gioia di poterlo accogliere nel proprio regno affinché potesse passare al Paranirvana nel proprio regno andò anche lui nel lato nord invece del fiume con tutte le sue truppe e armamenti con migliaia di soldati e fu così che quindi si trovarono tantissimi centinaia di migliaia di soldati che si accamparono alcuni alla riva sud arrivando dal Magada e a nord e quelli che arrivavano invece dalla città di Vaishali quindi i due eserciti si fronteggiarono di fatto a questo punto Ananda vedendo che i due eserciti si stavano quasi sfidando e combattessero quindi si uccidessero a vicenda ecco che a questo punto lui salì in cielo con i suoi poteri miracolosi mostrò i moteri miracolosi ed entrò direttamente nel Paranirvana e in quel momento il suo corpo fu totalmente consumato dal fuoco e i suoi resti del corpo che così era stato bruciato nell'alto dei cieli ecco che si divise in due una metà cadde sulla sponda nord e l'altro sulla sponda sud del fiume quindi ogni re di fatto ricevette una metà dei resti e a quel punto ecco che gli eserciti iniziarono a gridare di dolore tormentati e in ogni caso a questo punto i due eserciti si rivolsero cada uno nel proprio territorio e andarono a costruire gli stupa e fecero offerti in onore di Ananda in ogni caso quindi quando questo viaggiatore arrivò in India quello di cui stiamo leggendo il testo arrivò vide dice nei suoi testi appunto questi due stupa uno nella zona nord e l'altro nella riva sud del Gange in cui erano stati suddivisi i resti di Ananda ed ora vorrei dare una conclusione su quello che sono i racconti che abbiamo visto assieme ora in merito all'entrata al Paranirvana di Ananda allora così come vi ho detto prima il Paranirvana del nobile Ananda è descritto sia nella trasmissione meridionale che in quella settentrionale buddista e viene anche nella tradizione tibetana quindi nella tradizione settentrionale abbiamo ad esempio il Mula Sarvatisvata oppure il Sutra di il Sutra di Rea Shoka il Sutra della vita di Rea Shoka e anche le vite degli anziani e anche i grandi documenti Tang sulle regioni occidentali ossia il testo che vi ho appena menzionato poi ecco in questi testi si parla e si spiega del Paranirvana di Ananda invece in merito alla tradizione meridionale il commentario del Dhammapada è il principale a cui noi facciamo riferimento mentre la fonte principale per la tradizione tibetana è di nuovo il Mula Sarvastavada cioè i punti sottili della disciplina oltre che il testo di Taranata la storia del buddismo in India quindi se ora guardiamo a questi testi che ho appena citato e li compariamo e li confrontiamo ecco che ci sono alcuni punti che possiamo vedere immediatamente il primo punto è ad esempio che quelle che sono le fonti della tradizione settentrionale e tibetana parlano del fiume Gange come il luogo in cui Ananda passò al Paranirvana mentre la tradizione meridionale si parla del fiume Rohini dov'è questo fiume Rohini oggigiorno nel Gorakhpur c'è un fiume che si chiama Rohini ma io non sono certo che sia lo stesso comunque è piuttosto accettato in generale che si parla del fiume Gange in merito al Paranirvana di Ananda quindi ma nei commentari della tradizione meridionale come vi ho detto invece si parla del fiume Rohini quindi qua c'è una piccola differenza in merito al luogo in cui Ananda entrò nel Paranirvana il secondo punto che possiamo vedere è che rispetto a quelle che sono le fonti tibetane e settentrionale ecco che si parla di Re Ajashatru del Magda e da un lato e della gente di Vaishali dall'altro lato mentre nella tradizione meridionale si parla solo in questi termini dicendo le persone del lato vicino e del lato lontano del fiume quindi senza parlare né dei nomi del Re appunto Ajashatru non si parla nemmeno dei liciavi e così via si parla di fatto solo in generale quindi la similitudine in questo è che si parla di due sponde del fiume e che quindi dei territori a due lati diversi delle sponde del fiume solo questo ma non dà dettagli maggiori mentre il terzo punto è che nella tradizione settentrionale e quella tibetana si vede che una volta che le spoglie vengono suddivise le spoglie nel senso delle reliquie ecco che vengono costruite gli stupa e realizzate le offerte invece questo nella tradizione meridionale non viene detto invece la tradizione meridionale parla a lungo del grande dolore e della grande tristezza che afflisse le genti dopo il passaggio al paranirvana di ananda ma non si menziona la costruzione degli stupa quindi vedete che guardando questi punti che vi ho elencato si vedono un po' di differenze tra le tradizioni settentrionali e quelle mediterionali direi che in genere possiamo dire che la tradizione settentrionale e quella tibetana sono lo stesso invece quella meridionale è un po' diversa quindi riguardando a questi tre punti possiamo dire che parlando cioè a parte questi tre punti che vi ho elencato le storie sulla vita sul modo di passaggio al paranirvana di ananda più o meno invece vanno diciamo d'accordo sono piuttosto simili quindi in generale siamo sullo stesso livello se si parla quindi dei testi del nord che parla di ajashatru del magda da un lato e la gente di vaishali dall'altro lato che volevano entrambi di ottenere le spoglie e le reliquie di Ananda ecco che nel fiume in mezzo tra i due ecco che Ananda mostrò i poteri miracolosi poi il suo corpo bruciò e venne diviso in due e più o meno è quello che accade anche nel come tipo di racconto anche nei racconti meridionali e ora vorrei invece per concludere vorrei comparare i paranirvana di Mahakashapa e di Ananda allora guardiamo ad esempio iniziamo a guardare al paranirvana di Ananda e quali sono i punti principali allora come già vi ho detto precedentemente quello che noi possiamo dedurre nel guardare a come gli passò al paranirvana ecco che possiamo dedurre alcuni elementi importanti ad esempio uno è che durante la sua vita Ananda era stato considerato molto importante dalla gente a lui contemporanea ed è proprio anche per questo che tante persone ebbero voglia e desiderio da andarlo a vedere direttamente nel suo passaggio al paranirvana questo è il primo il secondo punto è che Ananda così per poter soddisfare i desideri delle persone ecco che suddivise le proprie reliquie in due parti di modo che questo potesse soddisfare le persone che chiedevano di lui vedete questo è molto particolare poiché in passato vi ricordate anche le spoglie i reliquie del Buddha vennero le spoglie del Buddha vennero cremate e le reliquie vennero divise in otto parti e suddivise in otto diversi regni che le avevano richieste ma vedete questo elemento di suddividere le reliquie di qualcuno in più parti per soddisfare più persone accade solo nel caso del Buddha come vi ho appena detto ma in nessun altro caso a parte nel caso di Ananda adesso quindi era molto particolare il terzo punto che da che possiamo dedurre è che il fatto che Ananda il paranirvana di Ananda assomigli molto a quello del Buddha ci dimostra che ormai la gente aveva riconosciuto in lui il vero e proprio sostituto diciamo o il rappresentante del Buddha stesso e il quarto punto è che le modalità del paranirvana di Ananda ci mostra la grande responsabilità che aveva nel guidare il sangha dopo il paranivana del Buddha scusate del Buddha e quindi era veramente aveva tanta responsabilità Ananda era addirittura più noto di Mahakashapa e arrivò ad avere quindi anche uno status e un'accettazione diciamo a livello della società molto maggiore di Mahakashapa stesso ad esempio e il quinto punto è che ci dimostra quindi il forte legame che Ananda era riuscito a stabilire nella società del suo tempo lui andava d'accordo con tutti era amato e piaciuto era amato scusate e seguito da tutti c'era non solo il sangha ma e monaci e monaci ma anche re e regnanti ma non solo anche persone laiche uomini donne e così via quindi in breve tutti gli volevano bene da un punto di vista anche si dice che lui fosse molto bello molto bello e carismatico fosse davvero bello avesse occhi molto belli e un modo di fare molto carismatico e quindi era una di quelle persone che non possono non piacere in qualche modo e quindi stare intorno a lui metteva molta gioia e quindi nessuno si annoiava mai di stare con lui tutti erano contenti e soddisfatti di stare in compagnia di Ananda ecco queste cose le possiamo dedurre anche da come entrò nel para nirvana quindi vedete lui era qualcuno che a livello sociale riusciva a creare connessioni tra le persone invece guardiamo ad esempio a quelli che sono i racconti del passaggio al nirvana dell'entrata al nirvana di Mahakashapa e cosa possiamo dedurre da questo anche qua ho dei punti che vi elenco uno di fatto possiamo vedere che vi era una sorta di distanza tra Mahakashapa e la società dell'epoca poiché infatti non vi fu molta gente che corse per andare ad essere presente durante il suo para nirvana di fatto più che Ananda che sapeva che era andato a entrare nel para nirvana nel monte Kukunanda come abbiamo spiegato ieri ecco che nessun altro andò a visitarlo e quindi a vederlo durante quel momento e forse tutto ciò è perché lui amava rimanere in solitudine e meditare e senza però stabilire tanti legami con le persone quindi quindi in breve c'era una sorta di distanza tra lui e le persone ma dal punto di vista del Dharma lui aveva grandi grandi capacità tant'è che abbiamo detto che andò prima di lasciare il corpo andò nella terra dei Naga che andò andò nelle terre pure e quindi c'erano Chakra e Niroga che lo rispettavano tanto e anche il modo in cui lui benedì le proprie il proprio corpo lo fece per far sì che per il bene del Dharma il suo corpo potesse rimanere finché arrivava Buddha Maitreya quindi vedete che anche viene messa in luce la sua importanza in termini di Dharma il secondo punto invece è che possiamo dedurre dai racconti della Paranirvana di Makashapa ecco vediamo che principalmente viene enfatizzata la situazione religiosa ma non le influenze con le varie reali condizioni sociali dell'epoca ecco vedete effettivamente Makashapa aveva avuto una relazione con Ajashatru ma non con altre persone a livello sociale invece avete visto che Ananda era stato seguito da tantissimi anche da persone normali diciamo quindi in breve i racconti degli ultimi momenti delle vite di Makashapa e di Ananda e del loro passaggio e della loro entrata al nirvana cosa ci mostrano? Ci mostrano che anche se questi racconti sono stati poi scritti e redatti vedete ci sono questi due punti principali uno uno è che benché i racconti siano stati redatti in un periodo successivo quindi nel periodo del Nikaia del buddismo Nikaia però ci mostrano e possiamo dedurre leggere da questo qual era la vera e propria situazione nel Sangha o del Sangha buddista dopo il paranirvana del Buddha e il secondo punto è che la forma e il succo il contenuto diciamo di questi racconti ci mostrano la situazione a livello del Sangha stesso quindi come quando diciamo possiamo vedere la connessione tra Makashapa ed Ananda e anche ecco quindi e questo è quello che possiamo giungere a comprendere questo è ciò che avevo da dirvi ma il punto principale qui è che come potrei dirvelo allora la cosa principale di cui abbiamo parlato è stata oggi il passaggio al nirvana di Ananda e in breve c'erano tantissime persone che lo amavano e quasi c'era stava per scoppiare una guerra per appropriarsi delle reliquie di Ananda quindi i due territori confinanti erano in volevano appropriarsi delle reliquie cosa mostra quanto lui era amato quanto lui era significativo ed è proprio per questo che erano tutti pronti a far partire anche una guerra pur di assicurarsi le reliquie quindi invece dall'altro lato guardiamo che Makashapa per il tipo di carattere che aveva ed amava rimanere in solitudine non aveva grandi relazioni con le persone era sempre assorto a meditare nel samadhi e così via ecco che aveva un carattere molto diverso da Ananda e per questa ragione quando lui entrò al Paranirvana andò in un posto vuoto scelse in cima al monte e decise di lasciare il corpo lì non come Ananda che invece decise di lasciare il corpo in mezzo a tante persone ecco questa è la differenza direi che per oggi può essere sufficiente un sì Grazie a tutti